Ciao ragazzi, io sono Lara e finalmente io sono in vacanza, non so voi. Se non siete ancora in vacanza, coraggio che manca poco. Comunque, oggi, qual è l'argomento di questo video? Allora, today ho fatto alcune spese da Terranova e più un Lara Tutorial. Mini spoiler, guardate il video fino alla fine per un tuffo nel passato nei tutorial di Lara di quando era piccola. Ma adesso continuiamo col video di oggi. E sì, in molti vi chiedete questa cosa e vi ringrazio perché in molti mi dite Lara che bello il tuo stile, che bello il tuo stile, mi ringrazio tantissimo. E in molti, ma proprio in tanti, mi state chiedendo Lara dove hai preso questi guantini qua a rete? Questi. E allora, non li ho comprati, online se ne trovano, però io ho deciso di farli a ma... Cioè farli... no, non farli. L'ho fatti io. Ora vi spiego come fare. Detto questo, iscrivetevi al canale, lasciate like e sigla. Nel diario incantato, il mio romanzo, trovate avventura, amicizia e un sacco di colpi di scena in tutte le librerie e nelle piattaforme online. Bentornati. Allora, dopo vi spiego come fare i guantini. Adesso vi mostro le cose che ho comperato. Perché sì, perché ci si abbina o più o meno, diciamo. Allora, come prima cosa che ho comperato, questo top, bello, a scacchi. Se magari si mette appos... ecco, un top a scacchi. Mi piaceva. Questo è carino. E mi si abbina nel calzino. E questa era la prima cosa. Adesso, la second cosa. Allora, ho preso due top. Perché, allora, io volevo prendere solo questo. Che costava da solo 7 euro. Perché ci volevo dipingere, ci volevo fare qualcosa. Ma poi, dopo mamma, mi ha fatto notare che qui è se ne prendi due, 9 euro. Che non approfitti questa situazione. Che non approfitti. E quindi sì, non solo ho preso questo top qua così, verde fluo, l'ho preso anche nero. E posso dire che io lo vedo giallo. Vabbè, per me è giallo. Vabbè, per me è verde. Per me è giallo. Per voi di che colore è? Scrivetelo. Allora, e poi ne ho preso un altro nero. Così almeno facevamo questo... Cioè, questa occasione, quando ti ricapita... Eh, quando ti ricapita. Un'altra occasione. Devo pagare 19 euro. Perché, allora, il top, il top, quello, la scacchi costava 10. E gli altri top, l'offerta quella, 9. E quindi 19 euro. Ma poi dopo ho utilizzato i punti scheda, penso sia, della carta di mamma. E niente, ho pagato quanto era? 13. 13 euro. Hai scalato i miei euro di sconto. Ti è andata bene. Grazie. E ora, seriamente, passiamo al tutorial. Allora, vi spiego la storia. Io non è che volevo proprio farli. Cioè, io li ho tornati al negozio, però ho visto il prezzo 6 euro e ho detto... Eh no, se... Eh no, cioè... E che sì, e che... No. Quindi, sempre dallo stesso cinese, ho preso dei calzini a rete a 1 euro. Per rimediare la situazione. E poi dopo, con delle forbici, ho bucato, ho fatto i cosi per far passare le dita. Ma veniamo al tutorial. Allora, io ne ho già fatto uno tempo fa, questi, con un calzino a rete lungo. E poi, oggi, ho voglia di sperimentare con questi. Che perché ci sono vari tipi di rete più grandi, più piccole, più corte, più grandi. E questi qua sono dei calzini a rete. Cioè, sono dei calzini a rete con le rete... Con la rete... Con la rete grande e diciamo corti, che mi dovrebbe arrivare tipo qua. Allora, per fare... Allora, per fare il guantino non bisogna tagliarla così, perché altrimenti... Eh no, dovete prima mettere la mano, con delicatezza, per vedere tutto. Poi, dovete decidere dove tagliare i pezzi. L'importante, la parte che è bruttina da vedere, cercate di mandarla sotto, facendo così. Allora, bucate un pezzetto alla volta, finché non vi ci passa il dito. Così. Ovviamente non cercate di farvi male. E usate delle forbici scolastiche dalla punta rotondata, così non c'è rischio che vi tagliate. Ecco, manca poco. Mi tieni questo? Certo. Allora. Ecco, e di qua. Tieni questo? Ecco fatto. Bene, adesso faccio l'altro. Stesso passaggio di prima. Tiac. Tiac. Ecco fatto. Sono molto contenta perché siccome sono elastici, li posso allungare e accorciare. Arrivano fino all'avambraccio. Visto quanto poco tempo, con poco, con un euro potete fare, cioè ci ho messo due minuti e in due minuti ho creato questo. Cioè sono veramente soddisfatta e... Wow, cioè veramente sono soddisfatta. E allora, i guantini a rete non ce l'hanno tutti i negozi, però i calzini a rete sì, con poco potete fare questo. Poi ci sono anche vari modelli. Poi ci sono anche vari modelli, esempio c'è questo qua col pizzo, però adesso non li farò, li farò quando mi si bucheranno questi. Vedete, gli accessori creano lo stile. Comunque, allora, per questo video dovete assolutamente... È un obbligo, è un obbligo, dovete... Cioè perché... Come non potete lasciare like, dovete subito lasciare like, altrimenti mi arrabbio, capito? E allora, ci vediamo al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto, un bacio a tutti qui, ciao! Ciao! Ciao ragazzi! Oggi farò un tutorial con i palloncini, ovvero come fare i costumini da bagno per le LOL con i palloncini piccoli. Buona visione! Come vedete, possiamo farli interi o a bichini, tipo questi. Come vedete, ho già creato alcuni modelli. Potete farlo o interi o in bichini. E potete anche fare le gonnelline per i petto. Pau pau! Lara, che c'è fashion? Dai, per favore, mi fai il costumino, perché non voglio stare nuda. Ok, iniziamo da te. Siccome il palloncino è troppo piccolo, useremo un palloncino fatto di carta. E ora vi spiego come lo dovete tagliare. Ma prima, con una matita, vi faccio vedere come si deve tagliare. Per fare le mutandine, dovete fare così. E poi dovete tagliare anche questa parte per fare il bichini. Ecco, l'ho ripassato con la penna così si vede meglio. Qui ho fatto la mutandina, qua il reggiseno e qua, con quello che avanza, potete fare o dei braccialetti o delle cavigliere. Ora lo ritaglio e poi ve lo faccio vedere sul palloncino. Ecco, dovrebbe venire così. Che vocina che aveva la mia bimba. E come potete vedere, siamo su YouTube da veramente un sacco, un sacco di tempo. Chissà quanti di voi erano già in nostra compagnia e stanno crescendo insieme a Lara. E chissà invece chi è nuovo. Se volete vedere questo video e altri sulle LOL, li trovate nel canale. E noi vi aspettiamo per tanti altri nuovi contenuti. Un bacio a tutti quanti. Grazie per aver visto anche questo video.